Abbiamo voluto partecipare per far parte di questo network, abbiamo avuto la commissione dell'ACI in questi giorni, siamo rimasti soddisfatti, lo sono stati anche loro perché hanno visto l'inchiatistica che abbiamo messo a norma negli ultimi anni e ristrutturato, abbiamo fatto vedere anche i progetti che sono stati finanziati per l'amministrazione comunale, di nuovi impianti e soprattutto hanno visto un gioiello che è la piccola coverciana che abbiamo fatto in collaborazione con la PGC e questo con la speranza che si possa raggiungere questo obiettivo per fare in modo che lo sport lo si pratichi anche per gli over 60 anni, gli over 60 perché abbiamo visto che la percentuale è ancora bassa, quindi vogliamo incentivare il mondo dello sport nella scuola ma anche tra gli over 60 perché riteniamo che lo sport sia una disciplina che aiuta tutti quanti, i piccoli per educarli, i grandi sicuramente per mantenersi meglio.